È disponibile su tutti gli store digitali questa mia nuova iniziativa che è nata dalla percezione che tutti noi siamo sovrappeso, siamo gonfi, non ci sentiamo diciamo in forma dopo questo periodo di restrizione di lockdown. Allora, eccolo qua. Su tutti gli store digitali voi potete trovare questo Istanbul che al prezzo di 4,99 euro può arrivare immediatamente sul vostro telefonino o sui vostri tablet e in quattro settimane voi potrete tornare in forma, perdere quei 4, 3, 4, 5 kg a seconda di quello di cui avete bisogno, sono quattro settimane con tutti i menu, con tutti i consigli pratici estremamente facili da seguire. Mi raccomando, buon percorso dimagrante!